Finisce il governo Conte-Bis. Ieri Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministri d'Italia Viva del governo. Si è aperta così una crisi di governo che deve essere ancora ufficialmente formalizzata, in piena emergenza sanitaria. A far scattare la miccia è stata la gestione del Recovery Fund, lo strumento comunitario fortemente è richiesto al governo per contrastare la crisi economica provocata dalla pandemia. Conte in una prima fase ha ipotizzato una cabina aeregia guidata a Palazzo Chigi, con l'ausilio di alcuni ministri, sei supermanager e una squadra ai tecnici. L'idea però ha creato tensioni nella maggioranza. Ieri sera, aprendo il Consiglio dei Ministri, il Premier ha confermato di aver accettato il passo indietro di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Le parole sono come pietre. Parla di grave responsabilità e notevole danno al Paese, prodotto da un gesto che non può essere sminuito. Afferma di aver cercato, fino all'ultimo utile, il dialogo ma il terreno è stato disseminato di mine. Il Premier Giuseppe Conte non ha però dato alcun cenno ai dietrofront. Oggi PD e Movimento 5 Stelle riuniranno i loro vertici per valutare la crisi. Le scelte possibili sembrano due. O di mettersi per aprire il tentativo di un nuovo governo o andare in Parlamento e verificare, chiedendo la fiducia alla Camera, la maggioranza. Lo stesso Presidente della Repubblica, Mattarella, ha chiesto una soluzione della crisi in tempi brevi. Se sceglierà davvero lo sciodano in Parlamento, l'obiettivo potrebbe essere ottenere il Sida una maggioranza larga e solida, con un appello ampio a sostenere il lavoro del governo.